Il Milan sta vincendo 2-1 a Roma, sta vincendo 2-1 a Roma dalla mia stanza, sto seguendo gli ultimi minuti con i ragazzi che vincono 2-1 grazie al gol su rigore di Chessy netto su Calabria e poi il pareggio di Veretout ma poi ancora la rete di Rebic, sacro fuoco Rebic. I ragazzi hanno giocato una partita per adesso, siamo al minuto 89-20, una grande partita, speriamo che reggano, il Milan ha avuto 5-6 occasioni di rete nelle prime a mezz'ora e l'hanno proprio sciupate con Ibrahimovic, con Rebic, due parate anche del portiere, adesso tengono i ragazzi senza Rebic, senza Ibra, senza Cialanoglu infortunati, viene avanti ancora la Roma in questa partita, i ragazzi vincono 2-1, i ragazzi vincono 2-1, viene avanti la Roma, pallone, salva Calabria enorme, viene avanti Calabria, viene avanti Davide, viene avanti Frisby, lancio lungo dove può andare Leao, non riesce a tenere la palla viva, cerca di intervenire Braem Diaz quando siamo, saranno 4 i minuti di recupero, 4 i minuti di recupero, vengono avanti ancora i ragazzi con Chessy, commoventi, brividi, c'ho i brividi, viene avanti ancora, fallo, non lo dà il signor Guida, e allora viene avanti la Roma al minuto 91, rimane a terra Castiglieco, dolente, dolente, recupera la palla, splendidamente, Ago e Filo Krunic e c'è a terra Castiglieco, quando siamo al minuto 90 e 34, i ragazzi hanno avuto una grande occasione all'inizio con Ibraimovic che sbaglia il colpo di tacco, poi riescono ancora a dominare l'incontro, Rebic solo davanti al portiere appoggia Ibraimovic che invece era in posizione irregolare, poi c'è stato due tiri di Rebic con le grandi parate di Paolo Lopez, e poi finalmente il rigore su Calabria. Adesso è a terra Castiglieco, i ragazzi hanno iniziato alle 30, una delle più belle partite, uno dei più belli 35, rimane a terra dolente sulla caviglia, gamba de Seller, attenzione, deve lavorare, sì, non saranno quattro, saranno di più adesso i minuti di recupero, tiene sempre la palla, attenzione, Castiglieco è dolente, non ce la fa ad alzarsi, una grande partita di Chessy, di Teo Hernandez, di Tomori, Joystick, grande prestazione, Calabria una prestazione enorme, il Milan ha giocato una grandissima partita, adesso Castiglieco è dolente, ha perso, Cialanoglu per infortunio, adduttore per Ibra, poi ancora Rebic, ancora Ibra che si muove sulla panchina, che deambula, una parita importante, una bella risposta quando siamo al 92esimo, palla per Donnarumma perché la Roma l'ha restituita, ecco lo sguardo, vedo lo sguardo di Paolo Maldini, Donnarumma lunga, lunga, lunghissima, e tiene la palla ancora il Milan che cerca di Milervanti con le A, è entrato benissimo in partita, nel secondo tempo dopo il 2-1, grazie a Rebic che ha effettuato il tiro in diagonale, c'è ancora un'occasione per Joystick Tomori, un tiro da lontano di Krunic che si stava infilando sotto la traversa da metà campo, il Milan tiene, cerca di andare ancora, vediamo, ancora che sì, una partita enorme dei ragazzi, una partita enorme, quando siamo al 92 e 30, attenzione, viene avanti la Roma, non finisce mai, non finisce mai, il tempo è lungo, lento come un olio che esce da una giara, il dio del tempo, Kronros non ci vuole, non ci vuole bene, viene avanti ancora la Roma, tiene la Roma, il Milan tutto arretrato con i giocatori che gli sono rimasti, attenzione al minuto 92 e 50, manca un minuto e dieci alla fine, controlla la palla, la Roma che entra in aria, attenzione solo davanti al portiere da quella parte, attenzione all'occasione della Roma, respinge la difesa del Milan, potrebbe tirare ancora, la parata di Gigio Donnarumma che la prende, la parata di Gigio Donnarumma che la prende, la parata di Gigio Donnarumma, 2-1 per i ragazzi, quando mancano, rivediamo l'azione, un'occasione solo dietro, respinge la difesa del Milan, riprende e para Gigio Donnarumma in porta, attenzione, ecco che rivediamo l'azione, ma quanto manca, quanto manca, mancano 30 secondi più recupero per l'infortunio a Castiglieco, la Roma viene avanti ancora, grande lavoro di Castiglieco, gambe dei seller, grandi ragazzi, e in piedi Krunic e in piedi Ibra si muovono come allo stoa di Socrate, viene avanti ancora i ragazzi, 2-1, 2-1, quando mancano 20 secondi più recupero ancora, viene avanti la Roma, bisogna andare a difendere, ecco Brian Diaz che è entrato molto bene, libera joystick Tomori, splendida prestazione, ora recupera Teo Hernandez, la palla di Chessy, Milan deve tenere, viene avanti ancora Chessy per l'ennesima fuga, lancia lungo, dove può andare Brian Diaz che tira la palla con i suoi piedi morbido, con una mousse al cioccolato prezioso come una sella di Thierry Hermès, tiene Diaz, siamo al 94-16, ora bisognerà attendere ancora qualche attimo, recupera la palla ancora il Milan, con Castiglieco, lotta nei ragazzi e commettono fallo, 94-30, c'è una munizione, attenzione, ma non finisce mai, non finisce mai, perché non fischia, perché non fischi, viene avanti ancora Roma, 94-50, è l'ultima azione, pannone, fermata dal Milan, la recupera ancora Meite, fischia, guida, e l'hanno regalato alla Cresima, quel fischietto, fischia, guida, fischia, guida, ancora, vediamo, il Milan, attenzione, calmo Pioli, grande recupero, che si è giocato una partita straordinaria, attenzione, vediamo, viene avanti ancora il Milan, controllata la palla, ed è finita, 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 ci avevano dati tutti per morti, ed è finita, ed è finita, ed è finita, 2-1, non ci sono parole per questi ragazzi, ed è finita, ed è finita, ed è finita, 2-1, non ci sono parole per questi ragazzi, non ci sono parole, siamo ancora a 4 dall'Inter, distacchiamo la Juventus, distacchiamo la Roma, questo Milan, portato via, e invece ci siamo ancora, grandi ragazzi, grandi ragazzi, un applauso, tutti otto, meravigliosi, una parità stupenda, con giocatori che non giocavano mai, grandissimi, grandi, questi sono i colori, i colori del Milan, i colori di quelli che stanno dominando da 120 anni, grandi ragazzi, grandi, 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 grazie a tutti,